Le fasi salienti dunque di Pescara, la tira il Pescara che vuole tornare a flertare col successo, in casa manca dal 13 novembre 1-0 sulla Messina, quindi tre sconfitte contro Catanzaro, Taranto e Picerno senza realizzare nessun gol, tra l'altro con poche e pochissime conclusioni verso la porta avversaria. Le scelte dell'allenatore, c'è il ritorno di Pizzari, anche Cancellotti, poi in grosso nel cuore della difesa al fianco di Brosco, ex della sfida, c'è Craia a centrocampo, davanti tutto confermato, intanto il minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa di Gianluca Vialli, un campione sul campo, un grandissimo uomo nella vita. Il Latina 3-4-2-1, il sistema di gioco con l'unica punta Luca Fabrizzi alle spalle dell'Aquilano, giocano sia a Tessiore che all'ex Riccardi, qui l'uscita così così di Cardinali ci prova Cuppone, Cortinovis salva all'altezza dell'area piccola. Questa è la prima azione che stiamo commentando, ma Milani si addormenta, gli soffia il pallone Sannipoli, poi rimpallo il sinistro con la buona reattività, dobbiamo dire, i Pizzari, bravo. Pallone basso, insidioso, si rifugia in calcio d'angolo, il sembo difensore del Pescara. Classe 2000 ex Milan, quindi il rigore, c'è lo scambio tra Mora e Craia, il cross, l'arbitro vede un fallo, forse una gomitata, insomma il rigore è assolutamente generoso. Di Sannipoli su De Sogus, De Sogus non protesta neanche, sono grandissime invece le proteste, anche motivate secondo noi, da parte dei giocatori del Latina. Viene anche ammonito Sannipoli, sarà protagonista in occasione del 2-2, calcio di rigore in favore del Pescara. Siamo al ventesimo minuto, nel corso del primo tempo è glaciale dal dischetto Cancellotti. Questo è il terzo gol in campionato per il classe 92, aveva già segnato un rigore nella difficile partita interna con la Gelbison, che è stata proprio risolta nei minuti finali con rigore appunto di Cancellotti e poi il raddoppio di Colai. Poi c'è stato il 2-1 della Gelbison di Chiara Mateng. Dunque 1-0 per i Biancazzurri, rivediamo ancora l'esecuzione perfetta, intuisce ma non ci arriva Cardinali. 1-0 Pescara, ventesimo minuto, si mette benissimo la gara per i Biancazzurri, che dovrebbero essere anche più tranquilli. E così è, arriva il raddoppio al sesto minuto, cross di Cancellotti, il pallone viene praticamente apparecchiato, con una grande giocata da De Sogus per Mora. Quinto gol stagionale per il numero 19, classe 1988, ha fatto lo stesso numero di gol di Cuppone. Una grande giocata però quella di De Sogus, che stoppa il pallone su cross di Cancellotti. Il destro che non lascia scampo, il destro di Mora al portiere del Latina, Cardinali. 2-0 al ventisesimo nel corso del primo tempo. Poi ancora Cuppone, lato corto, bravo Tupta ad anticipare Andrea Esposito, però non riesce a trovare la porta. Una buona partita a mio avviso, quella di Tupta, probabilmente la migliore da quando indossa la maglia del Pescara. Entra Margiotta nel secondo tempo e esce Bordine, più un 3-5-2. Dunque cambia un po' il sistema di gioco, con due mezziali però offensive come Tessione e Riccardi. Riccardi qui al tiro, in ombra. L'ex Biancazzurro poi sarà sostituito al suo posto, entrerà proprio di Livio, che cambierà la partita. Il figlio d'arte, inquadrato proprio Riccardi, dopo questa azione verrà sostituito dal suo tecnico. Siamo ancora nel secondo tempo, con le immagini del secondo tempo, il cross di Cancellotti. E Colai, che ha preso il posto di De Sogus, alza la mira. La buona posizione, non era comunque facile. Inquadrato Alberto Colombo, sempre 2-0 in favore dei Biancazzurri. E qui siamo al gol del 2-1, o meglio, al rigore, l'ingenuità di Mora su questa percussione di Di Livio. Appena entrato, figlio d'arte, una buona giocata quella di Di Livio. Però insomma, lì bisogna accompagnare. È stata un'ingenuità grossolana, che non ti aspetti da un giocatore come Mora, che ha grande esperienza. Però anche i più bravi possono sbagliare, quindi ci sta. Peccato, perché questo rigore cambierà di fatto la partita. Il rigore che viene trasformato intanto da Margiotta. Entrato all'inizio del secondo tempo, Margiotta che spiazza Plizzari. Siamo al minuto 71 nel corso di questa partita. Pensate, soltanto due i gol finora realizzati da Margiotta, ex Chievo, scuola Juventus, classe 93. Non segnava da tempo immemore, frenato però anche da diversi problemi di natura fisica. 71esimo, accorcia le distanze il Latina e il Pescara subisce il 2-2 dopo 5 minuti con questo lancio di Margiotta. Lo stop bellissimo di San Nipoli, che poi trafigge, incenerisce con un gran destro dal basso verso l'alto. Il portiere Plizzari, questo è un gol fantastico, complimenti a San Nipoli. classe 2000, ha giocato sino allo scorso anno in Serie D nel Trastevere, addirittura il quarto gol in Serie C per questo ragazzo. Fa la differenza, come diceva Pocazzi, giustamente Giovanni Tontonati, il grandissimo stop. E poi il destro che non lascia scampo, estremo difensore del Pescara Alessandro Plizzari. 2-2 al minuto, 75 non accadrà di fatto altro, infatti sono soltanto tre minuti di recupero, il Pescara non riuscirà più a rendersi pericoloso. Finisce 2-2 tra Pescara e Latina, la crisi continua.